Il Marans NA11S1 è uno streamer DAC che ha ricevuto il primo premio EISA come Best Digital Audio Player nel 2013-2014. Se i sistemi audio in rete sono stati concepiti tipicamente per la comodità più che per la qualità sonora finale, allora questo nuovo player audio digitale Marans segna un punto di svolta nell'evoluzione dell'iFi. Oltre ad offrire prese USB tipo A e B per gli e-device, memorie USB e connessione a PC o Mac, l'NA11S1 include una porta Ethernet per accedere a NAS o a lacciarsi alla rete domestica. L'apparecchio supporta anche il nuovo protocollo DSD over USB. Naturalmente include la connettività AirPlay e DLNA per accogliere il flusso musicale wireless da computer o dispositivi mobili. Il player è rifinito alla perfezione mentre il suo suono fine, lineare e intrigantemente dettagliato stabilisce un invidiabile standard. Senza dubbio è uno streamer superlativo. È un apparecchio del 2015, come vedete è come nuovo, dotato di istruzioni ed imballo originale. Il prezzo di listino era 3390 euro. È un vero affare. Grazie a tutti.